Musica Angelo Miranda, è quasi tutto pronto qui all'ex autoparco comunale di Scalea. Il sito è stato trasformato in un centro di raccolta per i rifiuti differenziati. Allora, noi abbiamo realizzato in questa struttura un centro di raccolta ai sensi del decreto dell'8 aprile 2008 disciplinato dall'articolo 183 del decreto legislativo del 2006. In effetti, per la prima volta nell'alto di Troncosentino si è realizzato un centro di raccolta all'avanguardia, con una filosofia di sensibilità e di accortezza a quelle che sono le politiche ambientali. Il centro si sviluppa su un criterio molto concreto. Il rifiuto selezionato arriva al centro, su quella pesa elettronica viene pesato e viene poi riportato all'interno per la riduzione volumetrica dello stesso. I grossi vantaggi da un punto di vista ambientale sono nella riduzione delle masse e dei volumi del rifiuto, in una certezza della selezione del rifiuto, nell'osservanza di quelle che sono le norme prescritte. Per quanto riguarda poi la ottimizzazione di questo rifiuto, Eco Energy è un'azienda che ha un proprio impianto di recupero e raccolta rifiuti, smaltimento rifiuti, in Airola Benevento. La stessa azienda, per cui queste costole che sono i centri di raccolta, sono di supporto all'impianto. Eco Energy è un'azienda convenzionata con i vari consorsi di rifiliera, con Aico, Repla e Covair, che ci permettono di recuperare per intero tutte le quantità dei rifiuti presenti. Ci vuole illustrare quali sono le fasi del lavoro che verrà svolto in questo nuovo impianto, che di qui a poco sarà aperto. Si era detto che l'inaugurazione del nuovo centro era in programma forse per la metà di novembre. A tal proposito vorrei ringraziare la commissione straordinaria insedita da Scalea, che debbo dire con molta onestà che in questo momento ci sta aiutando ad accelerare quelli che sono i tempi. Abbiamo trovato in loro un valido supporto per tutte queste attività e onestamente posti anche con la professionalità dovuta. In una prima fase gli automezzi verranno pesati, per cui si avrà la certezza delle quantità dei rifiuti. Su quest'area saranno posti dei cassoni a perfetta tenuta stagna, dove in pratica verranno stanziati e stoccati i rifiuti in attesa della riduzione volumetrica. La riduzione volumetrica verrà realizzata all'interno del capannone. Nel capannone è stata installata una pressa, la quale comprimerà per intero, per tipologia, i rifiuti. Gli stessi saranno inviati, come dicevo prima, al nostro impianto di Airola, il quale selezionerà i rifiuti provenienti da questa attività. Gli automezzi arriveranno in questo capannone. Qui i rifiuti saranno messi a terra per poter poi essere convogliati in quella che è una pressa oleopneumatica. Quella pressa comprimerà i rifiuti, legherà i rifiuti perfettamente e gli stessi saranno poi ricaricati per essere convogliati all'impianto di selezione e recupero del rifiuto stesso. Il quadro della pressa, il quale in questo modo andrà a regolamentare quella che è la pressione per la compattazione del rifiuto a secondo della tipologia del rifiuto. Anche perché ogni tipologia di rifiuto ha un suo grado di compattazione. Una volta immesso su quel nazzo trasportatore, per caduta poi andrà a finire nella pressa, la quale comprimerà interamente il rifiuto sin da ottenere una balla perfettamente di rifiuto, sempre di vis per tipologia. Ecco, precisiamo che stiamo parlando di carta, cartone, plastica. Certamente, stiamo parlando di rifiuti recuperabili non pericolosi e ciò credo che sia fondamentale, soprattutto oggi che l'economia delle materie prime non ci permette tanto di essere presenti sul mercato. Per cui recuperare è certamente una filosofia e da un punto di vista ambientale fondamentale, ma anche soprattutto da un punto di vista economico. Ecco, appunto, perché un lavoro di questo genere ovviamente ha dei vantaggi, come diceva lei, sia per l'ambiente ma soprattutto per i costi. E un impianto di questo tipo serve soprattutto per far diminuire le spese per lo smaltimento dei rifiuti? Serve soprattutto per far diminuire le spese per lo smaltimento dei rifiuti e non soltanto, ma soprattutto serve a far sì che si possano recuperare dai rifiuti quelle materie prime che possono essere riciclate. Ciò certamente è fondamentale. Purtroppo noi oggi, ancora oggi, assistiamo alla realizzazione di discariche che sono l'esatto contrario di questa filosofia. Ben poca attenzione a ciò che è il recupero e il riutilizzo. EcoEnergy è un'azienda che si è distinta per questo. Ha realizzato il suo impianto di trattamento e recupero di fiuto in Airola e sta realizzando, devo dire, con molta lungimiranza da parte della proprietà, una serie di isole, di centri di raccolta che possano alimentare il proprio impianto. Oltretutto, come diceva, EcoEnergy è convenzionato con i consorsi di filiera nazionali per cui il rifiuto ritorna in filiera nazionale e non all'estero, come fanno molti altri, svolgendo anche un'attività economica notevole. Ingegnere, avete fatto anche delle simulazioni. Qui fuori vediamo delle balle di cartone, il materiale è stato quindi compresso e diciamo che questo è il prodotto finito che poi sarà trasferito ad Airola. Sì, in effetti abbiamo fatto qualche simulazione. Il prodotto finito lo potete vedere qui. Certamente siamo ancora in una fase di verifica per cui è possibile che tra la carta può capitare la bottiglia di plastica. Anche perché, purtroppo, nonostante da pochi mesi sia partita la differenziata a Scalea, è ancora troppo presto affinché si possa raggiungere certi standard. Mi auguro che al più presto si arrivi a questo punto ed è uno dei nostri obiettivi fondamentali. La piattaforma, l'impianto, il centro di raccolta ha anche questa funzione, quella di monitoraggio del rifiuto proveniente da varie zone. Ecco, questa vera esperienza, le posso dire, succede negli altri impianti e nelle altre piattaforme nostre. Noi sappiamo benissimo da quali comuni provengono, quali e quanti, per tipologia di rifiuti, sono più o meno puliti e il loro grado di differenziazione. Ingegnere, quanto personale sarà impiegato all'interno di questo centro? Attualmente saranno impiegati un funzionario amministrativo e due operai, anche perché i macchinari ci offrono il dovuto supporto. Chiaramente questo può essere per l'area, per la zona, un volano anche di economia. Si potrebbero creare intorno ad un'attività di recupero una serie di microattività, di micro raccolta. La realizzazione del centro di raccolta rifiuti era stata prevista nel progetto per il recupero dell'ex autoparco comunale che l'ex giunta Basile aveva affidato alla ditta Eco Energy con una delibera a marzo 2013. Nelle volontà dell'ex amministrazione si evidenziava la necessità di svolgere lavori urgenti e necessari al fine di evitare un ulteriore deterioramento degli immobili locali da Pantano e quindi maggiori spese per il futuro. Spese che, così come riportato nel documento di giunta, ammontavano a 270.000 euro. L'ex amministrazione comunale inoltre stabiliva la cessione dello stabile per una durata di 15 anni in cambio di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e la realizzazione di un impianto di valorizzazione dei rifiuti. L'offerta della Eco Energy in risposta al bando di gara del 13 febbraio del 2013 sull'affidamento degli immobili era risultata la più vantaggiosa per le casse del comune di Scalea. La ditta di Benevento ha messo a disposizione 380.000 euro con una maggiorazione di 110.000 euro rispetto alla richiesta del comune che riceverà dall'azienda anche un canone di locazione mensile pari a 1.510 euro. Ingegnere, ci siamo spostati all'esterno perché questo progetto prevede un ulteriore passo avanti. Sarà implementato di altri lavori che verranno realizzati appunto in quest'area circostante all'ex autoparco comunale. In breve, un primo step noi l'abbiamo completato con la ristrutturazione dell'autoparco. Un secondo step sarà completato con la ristrutturazione di questi manufatti che potete vedere, che erano già in parte previsti dal bando e che poi in fase aggiuntiva, grazie anche a quella che è stata, come ripeto, la collaborazione della Commissione, è stato aggiunto anche l'altro caprannone. Per cui a breve procederemo alla ristrutturazione e il completamento dell'intero step. Questo immobile in particolare rimarrà nella nostra disponibilità. Gli altri due immobili, così come stabilito dalla Commissione e con l'intera area, rientreranno nella disponibilità della cittadinanza. Che cosa avete in mente di realizzare in quest'altro capannone? Quest'altro immobile mi pare che era destinato ad uffici e qui vorremmo realizzare un progetto di formazione professionale proprio per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti. Per cui fare dei corsi, anche coaduvati dalla Regione Calabria, per la formazione di operatori del settore. Grazie a tutti!